degli organi elettivi del Comune di Vittorio. Noi abbiamo ordinato per l'apertura dell'anno scolastico, un esempio, la pulizia di tutte le scuole di competenza del Comune. Ieri c'era un articolo sulla stampa siciliana che ci accusavano che le scuole erano sporchissime. La preside di Portella della Ginestra ha voluto testimoniarci la solidarietà postando su Facebook delle foto e una notizia dicendo che è tutto falso perché le scuole sono tutte pulitissime. Io stamattina con la dottoressa Termini abbiamo incontrato tutte le presidi, il preside di tutte le scuole di pertinenza del Comune di Vittoria. Stiamo cercando di provvedere ad eliminare problemi atavici di anni e anni e anni. Come tanti problemi atavici in tutti i settori dell'amministrazione abbiamo trovato problemi che sono diventati marci. Posso citarle la discarica di Pozzo Pollente andava messa in sicurezza dal 2006, oggi siamo nel 2019. Sono spariti tra i 6-7 milioni di Euro per provvedere alla messa in sicurezza. Stiamo cercando di provvedere noi e potrei farle mille altri esempi. Tra l'altro problemi citati nella relazione della Commissione d'Accesso. Di problemi ne stiamo affrontando un'infinità assumendoci delle gravissime responsabilità. La città deve smettere di vivere di alibi. L'ultimissima domanda per il ruolo che lei sta svolgendo chiaramente non ha il dovere di essere e lo uso tra virgolette il termine simpatico. Non di meno è palese e tanto vale dirlo in maniera manifesta che c'è un certo malessere e una certa antipatia che alcuni vittoriesi stanno manifestando nei suoi confronti. Io le chiedo di rispondere anche a titolo personale perché poi magari ciascuno vuole lasciare oltre che con la giustizia del proprio lavoro un buon ricordo di sé. Ma guardi, io non pretendo di essere simpatico a tutti. Se penso che, per carità, io sono nulla e nessuno in confronto a Gesù Cristo ma Gesù Cristo se non ho avuto il consenso generale da parte di tutti non posso certo averlo io. Una cosa è certa, io non sono venuto qui per scuotere simpatie. Sono venuto qui per cercare di fare il mio dovere assieme ai miei due colleghi la dottoressa Termini e il dottor Derba per cercare di aiutare seriamente la città a risollevarsi perché in quelle pagine della commissione d'accesso abbiamo letto e leggiamo tutti i giorni e lei credo l'abbia fatto che questa realtà ha dei problemi molto seri. Dopodiché, ripeto, io mi auguro che presto si vada a votare, che la città possa scegliersi gli amministratori migliori. Sul fatto della simpatia io spero di lasciare se mai, se riusciremo, che noi potremo lasciare un buon ricordo quantomeno per cercare di aver fatto il bene di Vittoria, il bene dei cittadini di Vittoria. Poi, ripeto, io preferisco avere le simpatie delle persone intelligenti e per bene. Non posso avere le simpatie di tutti. Delle persone intelligenti che capiscono e comprendono i nostri straordinari sacrifici per cercare di aiutare queste città a risollevarsi e a lavare l'onta dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. Così è scritto nella relazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica, perché noi siamo stati nominati commissari straordinari del governo a Vittoria con decreto del Presidente della Repubblica e non abbiamo dato a nessuno la licenza di offenderci continuamente e di insultarci e minacciarsi continuamente. Questo si è ben chiaro. Grazie a tutti.